Vai vai che ti registro Roby, tu dici tutto. In una mitica prova, noi le chiamiamo le prove speciali, c'è il trasferimento come nelle gare di enduro, c'è il trasferimento dove vai piano, poi c'è la prova speciale dove puoi divertirlo. In una mitica prova speciale a Lavamund, nella Carinzia in Austria, discesa, gli ho dato, di solito io sto sempre dietro, stavolta sono andato avanti, l'ho staccato, lui ha un Yamaha 250 da enduro gommato stradale, gli sono andato via, però lì devi guidare come Marquez, sfruttare tutto. E io che cosa ho fatto? Ho sfruttato talmente tanto che sono andato a sbattere con la leva destra contro il guard rail, ho tirato un botto, per fortuna che non si è girata la leva, se no cadevo, e allora adesso è già il viaggio, io ho già ordinato il paraleva come quei. Ho capito, tipo le MotoGP, ma le metterò su tutte le moto, perché io amo sfiorare le cose all'interno, lo specchio destro su tutte le mie moto è sempre assente, L'altro giorno mi ha prestato, siamo tornati in casa, guidavo io l'Integra, gli ho sbattuto anche lo specchio dell'Integra su un paletto, non so su cosa. C'è un grande Gugio! Allora, adesso sul PCX vedrete il paraleva come Marquez. Bene. Vabbè, adesso è sul camarello. Dopo quando ci siamo... Io viaggio sempre più. Stop! Stop! No, 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 no. Un altro giorno... Aspettate a partire! No, 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 no. È più perdita di tempo. Pronto, Roby? Aspettate, questi non mi servono, sennò vi do male. Ok, pira lì sotto. Vi do male con questi. Sì, ma fanno peso, vai più adagio, eh. No, non hai sensibilità. Andiamo, Centauro! Stai facendo massimo su dei giri di tutto a legno. E almeno facciamo qualcosa domani. Andiamo. E al fine domani che potremi stai attivano a legno. Tornare sul cale. Giustamente. E al fine domani. E al fine domani. E al fine domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.